Il messaggio di fare conti con le nostre potenzialità, di avere consapevolezza di quello che siamo, ma non accontentarci e andare oltre. L'Italia può diventare una delle più grandi industrie al mondo, siamo la seconda in Europa nonostante i deficit di competitività. Se passiamo dalla logica delle colpe alla logica della reazione, ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare.